Parliamo di legge di gravitazione universale, cioè parliamo della forza di gravità che agisce fra due oggetti che hanno massa. Ogni volta che due oggetti hanno massa, questi si attireranno sempre per forza di gravità. Due oggetti che hanno massa si attraggono. La forza con cui si attraggono dipende non solo dai valori delle masse, ma anche dalla loro distanza. Tanto più sono distanti, tanto meno intensa è la forza. In particolare la forza di attrazione diminuisce con il quadrato della distanza tra i due oggetti. La forza è legata alla costante di gravitazione universale G, che ha un valore ben preciso, uguale ovunque nell'universo. E non dipende dalle caratteristiche degli oggetti, è proprio una costante fondamentale dell'universo in cui viviamo. Il raggio d'azione della forza di gravità è infinito. Questo significa che non importa quanto distanti siano le due masse, le due masse comunque si attraggono. Certo, più grande è la distanza, più piccola è la forza di attrazione, quindi meno visibili sono gli effetti. Noi non ci accorgiamo dell'attrazione gravitazionale che Giove fa su di noi, però quell'attrazione c'è. Semplicemente è molto piccola perché la distanza è molto grande.